Ciao, sono l'avvocato Francesco Cacciola, fondatore di Debitobancario.it. In questo video voglio parlarti di che cosa avviene ai crediti quando vengono ceduti e in particolare di come vengono gestiti da parte delle principali società che acquistano i crediti. Quali sono queste società? Ci sta Banca IFIS che è la principale, poi ci sono anche altre società tra cui Axactor, Intrum, altri tipo Blue Factor, AK Nordic, MB Credit Solution. Che cosa succede? Quando ti trovi a non riuscire a pagare i finanziamenti c'è la possibilità che anche in seguito a vari tentativi di recupero crediti e anche alla decadenza del beneficio del termine, la società reputi più conveniente vendere questo credito anziché farti un'azione esecutiva. Ovviamente questo può dipendere da vari motivi. Nei momenti in cui questi crediti vengono venduti a queste società, ovviamente loro avranno due obiettivi. O quello di recuperare il credito facendo comunque un accordo con te o farti un'azione esecutiva per poter andare a recuperare. A differenza delle finanziarie, il cui core business è prestare soldi per avere interessi e quindi magari non sono per forza strutturate per fare delle azioni legali, queste società sono molto più strutturate, alcune delle quali, in particolare modo Banca IFIS, è veramente molto ben organizzata. Per cui la velocità delle azioni e delle informazioni che possono avere sul tuo conto sono veramente molto molto dettagliate. Per questo motivo, se anche hai preso tempo e la situazione ti è sembrata tutta rosa e fiori in questo momento, perché magari non stai pagando da oltre un anno, due anni, non pensare che non svegliare il can che dorme possa essere la soluzione al tuo caso specifico, perché purtroppo non lo è. In quest'ultimo periodo, anche in seguito al coronavirus, a maggior ragione, per crediti molto vecchi, queste società hanno acquistato questi crediti e hanno agito immediatamente, vedendo che magari il debitore o si disinteressava o magari non riceveva la posta. E molto spesso sono arrivate addirittura a fare un pignoramento, anche perché quando acquistano questi crediti e si rendono conto che tu hai da perdere, ovviamente cercano di recuperare in tutti i modi il loro credito. Quindi non c'è assolutamente possibilità di scherzare o di sottovalutare la situazione. Bisogna prenderla immediatamente in considerazione, anche perché gli effetti potrebbero essere veramente devastanti. Ultimamente ci ha contattato una persona che ha avuto un pignoramento per circa 120.000 euro, passando da un debito anche col decreto ingiuntivo, che era di circa 80.000 euro. Quindi il concetto qual è? Se ti trovi in una situazione del genere, con uno stipendio di 1.500 a 300 euro al mese, vita natural durante, dovrai pagare per forza quel debito, salvo che non perdi il lavoro e non avranno più niente su cui aggrapparsi. Ma se hai qualcosa da perdere, sicuramente lo verranno a prendere, perché sono organizzati per fare questo, a differenza anche di molte finanziarie che appunto non hanno questo tipo di organizzazione. Quindi se hai sottovalutato la situazione inizialmente, ti invito a non farlo adesso, perché è necessario agire immediatamente. Le conseguenze potrebbero essere veramente devastanti. Quindi se ti trovi ad avere dei debiti passati in mano a queste società che l'hanno acquistato, ti consiglio di affidarti a professionisti del settore che potranno indicarti la via migliore per poter andare a risolvere. Anche perché conoscendo precisamente tutte le procedure di queste società, sicuramente c'è la possibilità di trovare un accordo che sia sicuramente un ottimo accordo per te, per loro, e sia soprattutto sostenibile. Le società che acquistano i crediti, in particolare ad esempio Banca IFIS, ma così come anche le altre, molto spesso hanno tanti avvocati che lavorano esclusivamente per loro. Quindi il cui unico lavoro, dalla mattina alla sera, è fare azioni esecutive per recuperare i crediti vantati da queste società dopo averli acquistati. A differenza quindi delle finanziarie che magari non sono organizzate perché hanno un altro core business, queste società acquistano i crediti a un importo più basso e cercano di recuperare tutto il più velocemente possibile e soprattutto quando vedono, in base alle loro indagini, che hai magari uno stipendio o comunque qualcosa da perdere. Per questo motivo se ti trovi in una situazione del genere, ti do la possibilità di richiederci una consulenza gratuita qui in basso cliccando sul link www.debitobancario.it ti risponderemo quanto prima. Se non l'hai fatta ancora, ti invito ad iscriverti al canale YouTube di Debito Bancario e a cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sull'uscita dei nuovi video. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!